Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e Barberino per traffico intenso. Per lavori chiuso in entrambe le direzioni, il tratto tra Aglio e Rioveggio. In A11, rallentamenti per materiali dispersi tra Pratoves e il Bivio per l'A1 in direzione Firenze. Sulla FIPILI, rallentamenti per traffico intenso tra Scandici e Firenze e Scandici in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. Sempre per lavori è chiuso in entrata lo svincolo di Colle Valdessa Sud in direzione Firenze. Sulla Statale 1 Aurelia è chiuso in entrata e uscita verso Livorno lo svincolo di Rosignano Marittimo. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!